E' bello a te ragazzi, sono TheCoverDog e siamo qui in un nuovo video in un video dove ho comprato la Nintendo Switch ho comprato la Nintendo Switch ieri e ora vi mostrerò da acceso ok, si sta accendendo con il logo ok, ed ecco qua ho già scaricato Fortnite e Youtube devo dire che non lagga su Fortnite ed è... ed è bella qua mi sono scelto il funghetto e vabbè e poi c'è anche questo dove si mettono i Joy-Con che sarebbero questi dentro adesso vi mostrerò che li mostrerò da dentro ok, li ho messi dentro quindi qua c'è il logo qua ci sono le lucette e qua ci sono i Joy-Con che ora posso usarli così posso usarli da fuori ed è molto più comodo per giocare a Fortnite perché mi trovavo scomodo con i Joy-Con attaccati direttamente allo schermo vabbè e poi c'è anche la scatolina per giocare dalla TV ma ce l'ho di là niente spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un like se volete se non siete ancora iscritti iscrivetevi commentate è bello grazie a tutti